Sono giorni di profondi cambiamenti per Francesca Pascale, l'ex lady Berlusconi che si è fidanzata con il Cavaliere nel 2011 restandoci fino al 2020, prima del matrimonio civile con la cantante Paola Turch. Dall'uomo di destra ai banchetti di sinistra, dal biondo al castano. Ecco cosa ha fatto in questi giorni. Francesca Pascale è stata immortalata recentemente al banchetto dell'AMPI e Associazione Nazionale Partigiani Italiani, la Roma nella sezione di Alberone mentre compilava il modulo di iscrizione. Una posizione che non stupisce ricordando le sue recenti bordate al governo Meloni sui diritti civili e la firma per sostenere il referendum per bloccare l'autonomia. A fare storcere ai più il naso è il trascorso della relazione con Silvio Berlusconi, che faceva parte anche della coalizione di centrodestra attualmente al governo. C'è chi la critica, e chi invece ricorda come anche Berlusconi indossò il fazzoletto dell'AMPI il 25 aprile 2009 a Onna, l'Aquila. In quel caso auspicò che la liberazione potesse diventare la festa di tutti. Salutato il biondo, benvenuto il brunette. Un vero e proprio colpo di testa per Francesca Pascale, che si è rivolto al parrucchiere delle dive Roberto Carminati. Lo avete sicuramente visto, ha detto fatto. A lui si rivolgono anche Antonella Clerici, Massimiliano Rosolino e Roberta Capua. Pascale ha scelto di anticipare la prossima moda optando per la nuance che sarà di voga in questi mesi, la più gettonata per l'autunno-inverno 2025.